E ragazzi, come va? Io sono FieriNiki E io sono Stef, che si gioca con GTA V E oggi siamo qui con la modalità che più ci avete chiesto in assoluto Ovvero, lo slasher, in compagnia ovviamente di EspiGiochi e Luca Esattamente, spiegato molto semplicemente Allora, siamo in degli interni di GTA V In questo caso abbiamo scelto ospedale e yacht Che poi non è un ospedale, ma è un obitorio, ce l'hanno corretto tutti Più o meno un ospedale, dai, non facciamo quelli sui super dettagli Tre si nascondono, uno insegue Quello che insegue è armato di fucile a pompa e di macette E gli altri sono senza armi Però se per tre minuti non riesce ad ammazzare quelli che si nascondono Esatto Quei tre che si nascondono avranno delle armi E potranno ammazzare quello che cerca Quindi è molto interessante perché c'è questa doppia scena Questo doppio momento Prima cerchi, poi scappi Che è davvero fantastica Speriamo che il video vi piacerà Ricordate ovviamente di passare dal link in descrizione di EspiGiochi E partiamo subito Ragazzi, ragazzi Oh mamma mia Non ci viene a prendere uno Oh mamma mia C'è un certo Steph che vi cerca Ma spegni sta luce Espi, spegni la torcia Ok, ok, la spegno La torcia La luce? La vedete la luce? Quale luce? La vedete, la vedete Io lo so che la vedete No, la vediamo Allora Vediamo solo quella di Espi noi Buongiorno Vediamo solo la luce di Espi Ho solo 30 secondi Ho solo 30 secondi 30 secondi Dietro no Ok Non siamo da nessuna parte, Steph Eccoli, eccoli Morite Uno lo stesso Scappa, scappa No, dai Luca scappa Ce la puoi fare Poi prendi l'arma e la uccidi No, 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 no Ok, adesso è armato No Sì Grande Luca, grande Dannazione Ti sei fatto uccidere da Luca Ma dimmi te Perché non sapevo dove era scappato E sapevo soltanto che lui era armato Quindi Avevo un attimino uno svantaggio, ok? Va bene, non mi giudicate Quando farete voi i mostri Capirete quanto è difficile la mia vita Venite, venite Non scappiamo Qua, 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 così Così Ma è una scondiglio pesca Tutti lì, tutti lì Oddio No, no, Espi Oddio Espi Scusate Stai, stai lì Stai così Ok Luca puoi andare, Luca puoi andare, Luca puoi andare Arrivo Appena arriva Corriamo Sì Non è una buona idea Allora Uno super le scale E gli altri due Che è quello che morirà prima Ok Ah, super le scale, perfetto Esatto È diventato Espi improvvisamente, Steph Esatto Lasciatevi in pace Guardate come c'è la luce, eh Volete la luce? Eccola No, no No, 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 smettetela Smettetela Spedete tutti Spedete tutti i accidenti a voi Lo sapete che so fare il codice Morse Dai Smettila Criminale Dimmi C'è qualcuno da sacrificare Lasciami dietro lui Ah, ma Inizio a ammazzarlo, Fer Perché sempre io? Cosa faccio? Non posso, non puoi Purtroppo no Ci ho provato Chi è morto? Io sto correndo a tic-tac Ok, Espi è morto Io scappo Mi lancio da qui Scappa, Fer Aiuto 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 Ma siete morti tutti? Quasi, Fer Mi sto ancora seguendo Fer Scappa Oppure di darmi il cucino A te mi uscire Andate No Mi hai lasciato da solo Mancano 50 secondi Oh mio Dio Steph è perfetto Meno male Meno male che tu sei scopata dalla parte opposta della mia Almeno mi hai fatto seminare Oh che bello il nascondiglio di Steph 45 secondi Che bello Ce la posso fare ragazzi Posso farcela Ok Che poi mi dà semplicemente la sua stessa arma Quindi teoricamente è uno scontro alla pari Stile Far West A quel punto Molto alla pari Molto bello Non è che Che arrivo Ho l'arma segreta Che lo massacro e via No no Divento uno scontro alla pari 30 secondi Espy Canta una canzone Distrai Luca No 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 Bianconata Espy Espy Ma usi sempre la stessa È ben nascosto Steph Te lo dico È ben nascosto Allora Oh paura Sono indeciso Se uscire O se stare nascosto Se affrontarlo O se stare nascosto Vabbè Primo o poi ti becca Affrontalo dai Affrontalo Non è troppo grande l'obiturale Lo devo affrontare Sì affrontalo Ma io ho paura Nel far west Non ci si nasconde Dietro il tavolo di operatoria No 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 La luce Bella la luce Steph No Anche te sei il codice Morse Sì esatto L'ho insegnato io Sei tanto bravo Steph Dai vai 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 Steph Aiuto Secondo me adesso Apri una porta Te lo trovi in faccia Aiuto Allora Che ansia Questo è il mio piano Questo è il mio piano Capite Ok Sì 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 È il momento di scontrarti È il momento del duello Dai lo sapevo Graziato Aiuto Ma come mai hai equipaggiato il fucile a pompa solo adesso Steph È perché prima pensavo di avercelo equipaggiato invece era la torcia Ok ottimo Mi sono confuso parecchio No Ma no Dovevi Capito Precederlo Ma sei una persona terribile Dai 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 è perfetto Ah qui Dici Non fate linguaggi Morse Funzionano i miei nascondigli Non funziona È terribile Che brutti che siete di faccia Perché è bello tu Io sono bellissimo Sono l'unico inimitabile Steph Ti devi asciugare la bocca Ragazzi Ragazzi guardate in alto Guardate chi c'è Aspetta che lo distrago con il codice Morse Aspettate Vai acceccatelo Acceccatelo corrette Acceccatelo corrette Il codice Morse è andato Ragazzi si può picchiare No ma si può picchiare Sì si può picchiare con la torgia Lo sapevo Potete massacrarlo di botte adesso Io mi sono nascosto Mi sei andata Mi hai lasciato solo Eh sì Mi hai lasciato solo prima me Adesso sono scappata io No per Aiutatemi Ho paura Ho paura Ma che cavolo Vattene Vattene Non è un buon modo Dai vattene Ci fai scoprire entrambi Così perfetto Perfetto Allora 40 secondi fare abbiamo dei fucili a pompa Ok ok Io ho perso tantissimo Teoricamente A quel punto A quel punto C'è da dire una cosa Dimmi fare Espi muore sempre Sì sì È una regola Io mi sono sacrificato per voi Ho provato a distraverlo con il codice Morse Quando mai Io avrei patteggiato Se qualcuno non mi avesse puntato una torcia in faccia Fare scappa Fare scappa Sto scappando Aiuto Ma ci ha visti Sparo Sì Fere Certo che ci ha visti Scappa Cavolo Cavolo 8 secondi Fere Prendi Steph Prendi Steph Sto parattando la mia vita Prendi Steph Non la mia Distrailo Oh non de morde Luca Però non fa Non fa Non de morde Muori Muori Dove sei Ok L'abbiamo fatta Andiamo A caccia Dove siete Espi Niente caccia Non va bene Non va bene Non posso spararti subito Dove siete? Ciao belli Ma Espi sei tu? Sì Ciao Non mi puoi sparare Vai in un angolo Vai in un angolo Altrimenti ti prende a colpi di torce Hai capito? Pam Ecco Stai in un angolo Stai in un angolo E fai da bravo Qui? Qua? No Luca? Non so chi stai guardando No ma questo è di nuovo Espi Ciao Espi Ciao Espi Venite dove c'è l'elicottero Ma cos'è successo? Mi ha picchiato Sono grave Perché hai ucciso Espi? Scusate A me Luca prima ha dato sei colpi di quella torce Non mi ha ucciso Ne do uno io ad Espi a crolla Ma perché Espi? Non so se tu sei molto forte È delicato Ripacciamo il round Espi ci stiamo riprovando Dai vediamo se questa volta non muori subito Non picchiamo Io non ti picchio più promesso Perché ormai ho imparato la lezione Comunque voi nascondetevi da soli Io mi faccio un mio nascondiglio Voglio stare da solo oggi Voglio stare da solo Lo so Espi Ho un appuntamento dopo questa caccia Dai Dici che tipo di appuntamento ha uno come te Espi? Facci Sei un curioso Devo fare il carnevale ovviamente Io vi dico Neanche è passato vicino Espi dove sei finito? Sei nello stesso yacht nostro Ho il dubbio se è andato via Non lo so Magari è sceso dallo yacht Ma tu continua a cercare Espi Noi siamo ancora nei nascondigli Ci devi anche trovare È andato Oddio Ma come? Allora dov'è lui? Cioè fa finta di essersi perso Ma guarda che Che gli dispiaceva Stavo per dargli dieci secondi in più Non sapevo che fosse lui Mi spiace Ma è solo un infame Ma che cosa mi spiace? Dovete assolutamente ammazzarlo Io guardo di qua Fere tu guarda di là Con carentina Luca No dai Luca era qui dietro L'ho presa alle spalle È che mi aveva già danneggiato Stefano Cioè fa finta di nulla Mi sono girata e l'ho visto Cioè Vabbè ma chi è? Spiegatemi Qualcosa stavate controllando Se è arrivato Io stavo guardando se passava da sotto E Luca all'altra parte Capito? Dove andiamo ragazzi? Veloci Portaci Ma chi è che cerca adesso? Io 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 Purtroppo È la più pazza Ma non è vero Sono quella che perde sempre Io ho già paura Allora Venite qua Venite qua Venite qua Mi vedete? No Stef non mi sembra una buona idea Stef guarda Fidatevi è bellissimo Io vedo delle torce Cioè anche se Dai chi è che ha usato la torcia? Guarda qua dietro la porta Cioè siete dietro di me Quindi ve ne andate? Qui 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 Eh Ah ok Ok scusate Anche io anche io Mi stavo nascondendo lì Espi vieni via Siete davvero una bar Cioè Vi state nascondendo dietro di me? Eh non me ne ho accorto che eri lì cara Eh sono arrivata qui Che ti devo dire Dai muovetevi Dove lì? Questo è bello Bello Qui Ok io mi sono nascosto benissimo Bello Posso andare? Ok io mi nascondo qui Guardate qua Luca tu rimaniamo qui accanto a noi Così gli roviniamo il nascondiglio alla grana L'avete rovinato tutti e tre Dai siete dei criminali Io vado Anzi Prendilo prendilo Sicuramente Sicuramente non ce l'ho notata Cioè giuro che chiunque fosse l'ho risparmiato per pietà perché davvero Era Luca quello Era Luca Sembrava un bel nascondiglio È tornata Ciao Luca Cosa fai? Adesso basta Dai Luca Ok meno uno C'è pure Espy lì C'è pure Espy Ammazza pure l'Espy Sì sì torna in quel punto Non è vero C'è Espy sotto la scrivania Non è vero Siete in qualche altra stanza Ma Fere siamo lì te lo giuro Mi state fregando Cioè non si fida Il bagno Chi è che sta correndo? Io scappo Siete ridicoli Mi sa che ci sono a scappo Espy Io gli seguo Steph No Espy Steph vieni qua Che cosa state facendo? Lasciami pazzo Espy Cosa vuoi fare? Ci facciamo un bagnetto Sei Dove siete? Dai Vi ho lasciato correre Adesso venite a farvi fare Andata? Io vi ho lasciato correre però dai Perché eravate troppo ridicoli Neanche mi avevi visto correre Ho visto a te Espy Vi avevo nemmeno Sì Ho detto li lascio scappare Perché non sono neanche riusciti a nascondersi Certo 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 Non sapete nascondervi Eravamo sotto la scrivania Salve dove siete? Eh nello yacht Ci sono stati bei gattini Io sono nello yacht Espy Luca dove sei? Ma cosa ho fatto lo scondiglio di prima Steph? Non ci sei Ok Non lo riciclo così facilmente caro Però potresti Boom Chi era? Oh no Io Frenichi Volevo prendere Steph Non trovo a me nessuno perché deve trovare a me Io non ci credo Non c'ho una valedizione con Espy È un bello scondiglio lo suo Esatto Vero che era bellissimo Come hai fatto a trovarmi? Ho cercato prima gli anfratti Non lo so perché Sono masochista Vado a cercare prima le cose complesse Anche io lo faccio Anche io Anche io Anche io Ho detto dai Non trovavo in nessuno Espy Luca come va la vita? Va bene Non lo sai Ok Allora Penso Chi sto vedendo Luca Io sto già pensando A tra un minuto Quando avremo un bel fucile a pompa Mi sono incastato nella porta Scappa Luca Io mi butto Luca? Ma cosa vuol dire? Sono nello yacht Che sono nello yacht Dentro lo yacht Ah bello Il nascondiglio di Steph Bello Ma in realtà non è così bello Però sapevo che mi avrebbe dato del tempo Sì ma Espy non ti troverà mai Ma come? Lo so Lo so Steph Io forse intanto stare attento Perché? Molto Molto attento No No mio Dio Vieni qua Aspetta Aspetta 10 secondi Steph Corri Ok Corri No mi sono incastrato E non mi si sta incastrando Ce la posso fare? Mamma mia Ma ti sembra Dov'è finito? Nasconditi Che ansia Espy stai attento Dai Preso Ops Te l'ho detto Che è successo Non poteva uscire da quella porta Non deve trovarvelo davanti Oh questo round Espy davvero Io te l'ho detto Cioè Lo succo degli è successo però A me serve un po' di round di riscaldamento gente Io sono nello yacht Voi dove siete? Anch'io guarda caso Riciclo le battute Magari sono qui Espy riciclo le battute come riciclo i nascondigli Ok Ok Cosa vuol Oddio Adesso lo profondo Perché posso averne riciclato tre Uno dei tre Oh io non mi sono nascosta Mi sono nascosta malissimo Dai ma hai riciclato tu quello di Steph Mi aspettavo di trovare Steph lì Io non lo sapevo qual era quello di Steph Non lo sapevo Non lo sapevo Non ci credo Praticamente io in modo indiretto ho detto dove si trovava Fere Sì esatto Ma lo ricorderò quando sarò il mio cercatore No vabbè Io non ci credo Non ci credo No no dove sono adesso l'ora adesso me li perdo Me li perdo la grande Fere sta ricordando il mio schermo? No Poi non lo vedo è troppo scuro come faccio? No ma ho pensato Inspectate intendevo Ah aspetta adesso vado da te Eh no Ormai è finita Ah ok Vabbè vedo Luca Espi era sotto di me Io ero sopra di lui Mi è passato Non mi ha visto Sono introvabile Espi mi dispiace Luca dice Sono introvabile Ci sono le finestre caro Allora bisogna organizzarci per uccidere tutti Espi Ma le finestre sono a specchio Allora Eh magari Luca Guarda il mio schermo E capisci No vabbè Che cosa? Dov'è lui? Eh Me lo yacht Beh infatti mi sono mosso Espi Perché mi sei passato davanti Mi sono spaventato e sono scappato Mamma mia che bugiardo Sei un bugiardo scopo No ero Ero lì Ero lì Però poi mi sono spostato Maledetto E' presente che quando hai ammazzato Fere Mi hai fatto perdere un sacco di tempo Quando hai ammazzato Fere Tu sei entrato poi nella stanza a fianco E mi sei passato di fronte Cosa? Che trip Però poi me sono andato Ok non sto capendo più nulla Però adesso E adesso sono nascosto In cui vi dovete scontrare E ho paura di uscire E' tornato a riva Esatto esatto E poi sono a casa Che paura Aiuto 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 Io entro ho visto una torcia di Espi Anche io l'ho vista Però non ho capito dove sta Davvero? Sì che siete vicini Davvero? Ciao Espi No Mamma mia Ma come fai? Te l'ho detto che era vicino Ti dovevi preparare Allora Voglio dire una cosa Dopo questo Sono sicuro di avere Il fucile a pompa Rotto Perché Con chiunque Ho perso il duello Oppure con Fere Quindi è rotto Ho infilato le patate dentro C'è qualcosa c'è Sto sparando caramelle Non lo so Però non funziona il mio fucile Direi che ci possiamo fermare così Per questo video E' davvero carina questa modalità Ovviamente con commenti e sondaggio Fateci sapere se la vorreste rivedere Nel caso in che location E dovrei anche controllare Se si possono fare Delle location diverse Da quelle preimpostate Dalla Rockstar Sì Si potrebbe vedere Perché secondo me Si potrebbe fare anche quello Ed è molto molto simpatica Mi ha divertito questa cosa Che prima cerchi E poi devi scappare Ma è piaciuta tanto Mette tanta ansia Ed è divertente Quindi speriamo che il video Vi sia piaciuto Se non l'avete fatto Passate da Link in descrizione Per gli spi giochi Sondaggino E commenti appunto Per farci sapere Se volete rivedere la malità E ci fermiamo così Bene che se vi è scusato Se ci piace Dici un like Adesso la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao